Lupi alle porte di Teramo, in merito alla notizia diffusa nei giorni precedenti sull'uccisione di 150 capi di ovini, l'ASLO vuole fare alcune precisazioni. In merito a questa situazione che si è creata, il mio servizio è intervenuto per effettuare dei rilievi in ordine all'uccisione da parte, molto probabilmente, con elevata probabilità, da parte del lupo di 12 capi di un greggio importante che è collocato qui sulle colline intorno a Teramo. L'area in cui si è verificato l'evento è un'area in parte urbanizzata, con terreni a coltivazione, però ci sono anche tanti terreni di carattere boschivo che possono essere locus di annidamento del lupo. Quindi i lupi possono utilizzare questi areali per collocarsi e poi di lì, in determinate condizioni, possono intervenire e creare questa attività di predazione. La presenza dei lupi non è da escludere, in quanto c'è stato un grande spostamento anche di altra fauna selvatica dalle zone più montane alle zone più collinari fino ad arrivare alle zone litorali per quanto attiene ai cinghiali. Possiamo dire che il lupo può trovarsi anche in zone che non sono le solite? Il lupo può trovarsi anche in zone più vicine, anzi sicuramente si sta trovando in zone più vicine ai centri abitati, un pochettino perché segue altri ungulati, cioè segue i caprioli, segue i cinghiali, eccetera, e quindi è possibile anche perché c'è un certo abbandono fondiario. Bisognerebbe far sì che gli allevatori venissero formati, Anzi, anche l'ASRA è disponibile a cercare di fare queste cose qui, cioè a formare gli allevatori a far conoscere questi eventi in modo tale che vengano prese opportune misure di protezione. Quali per esempio? Le misure di protezione possono essere dei cani particolarmente addestrati a difendere il gregge, ci sono delle reti che sono particolarmente indicate per questo tipo di situazioni, però ovviamente tutte queste situazioni qui hanno anche dei costi.